Eventi come questi sono importanti per migliorare la consapevolezza tra il pubblico in merito all'utilizzo delle reti sociali e quindi non solo in merito al contenuto che viene diffuso su queste reti ma anche rispetto a una serie di altre informazioni che accompagnano spesso questi dati e che possono rilevare informazioni personali di tipo importante.